Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di mele, noci e cannella. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono burro morbido, zucchero semolato, uova, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, cannella in polvere, granella di noci, mele, gherigli di noci, sale, pasta di limone o la scorza grattugiata di limone e liquore alla cannella che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il burro e lo zucchero ed azionare il bimbi per cinque minuti a velocità a quattro. Rienire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova ed azionare il bimbi per due minuti a velocità a quattro. Aggiungere la farina, il liquore alla cannella che è facoltativo, la cannella in polvere, il sale, la pasta di limone e il lievito. Ed azionare il bimbi per due minuti a velocità a quattro. Aggiungere la granella di noci e le mele tagliate a pezzetti. ed amalgamare con la spatola. Versare il composto in uno stampo da 26 centimetri ben imburrato. Decorare con le mele tagliate a fette. Cuocere in forno prediscaldato statico a 170 gradi per 30-40 minuti. Fare la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. Torta di mele, noce e cannella. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie. 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 Grazie a tutti.